riproviamo vediamo cosa succede stamattina o stamattina lo cacciamo a mare se fattisce li mettiamo la ciambella ci aspetta lì ho visto lucicare dai fa ce la puoi fare e vai adesso si che non è che sono contenta di svegliarmi alle 5 e mezza vedi che ci voleva l'esca grossa però dura eh quanti chili sarà secondo te? 15 chili in che senso come quello che hai preso l'estate scorsa? no come quello che hai preso l'orso ah qualche chilo oh 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 Ecco il secondo tempo Guarda come si piega Atele a piccola E' un po' Pozzo E' un pozzo Sì. Eh? Eh? Tanto gliene prendi. Tanto che non c'era il premio. Poi ci viene dietro. E' un'altra parte. Sì. Un'altra parte. E' troppo vicino. Ma cos'è? Si è troppo vicino. Eh? Fa' filmare bene la canna che si piegava. solo che prima per qualche secondo per sbaglio è filmato Pino Ancora film? il raffio ce l'hai? si stanchezza guarda che riga nera che ha sugli occhi non è ancora più stante ha preso di nuovo del filo che bello è spettacolare filmala così questo è quello che ci guardava quando abbiamo preso la ricciola è una barca di vegetti con i vestiti di viola sono vicino a noi è un 30 kg questa qua la teniamo un po' con la canna? no no guarda che spettacolo Dodi bella 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 bravo Pino che poca bestia che poca bestia cinque 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 l'unica bestione che fa? è partita attenta che sta girando sta girando troppo dall'altra parte si metti giù stacca pure stacca allora emozione è è già bella bestia bella bestia bella bestia